Signore e signori vi ripeto le regole della grande caccia, l'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo stato e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola, ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 caccia, 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola, il cacciatore sa tutto della sua vittima, nome, indirizzo, abitudine. Terza regola, la vittima non sa chi è il suo cacciatore, deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola, il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio, colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10 cacce, sarà proclamato decato, riceverà onori e un milione di dollari.